Si riposa, c'è più intimità, giusto? Ci siamo io e te, c'è anche lei di mezzo, ma insomma, lei non parla. Poi con i tempi che corrono fuori, insomma, visto che ormai la sicurezza è diventata un optional, il fatto di stare insieme, secondo me, è un grande effetto. Ok, senza pensare alle brutte cose, io continuo con voi il viaggio. Oh, 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 oh.